Dopo circa una decina di giorni sono uscite le motivazioni che spiegano le sentenze della Corte Federale d'Appello nell'ambito del processo sulla partita Savona-Teramo, 77 pagine che ripercorrono le varie tappe del procedimento, dal deferimento al giudizio di primo grado a quello di secondo grado. Si può dire in estrema sintesi che la sentenza del Tribunale federale ha tenuto di fronte alla Corte d'Appello, che ha espresso valutazioni ancora più articolate e che si possono ricondurre in un sostanziale svilimento sia delle indagini difensive promosse dalla Teramo Calcio, sia delle testimonianze, da quelle prodotte nel dibattimento di primo grado a cui dirigenti Testemmignini alla dichiarazione del medico sociale Carlo Dugo, allegata nel ricorso per il secondo grado. Peraltro, secondo la Corte, anche qualora la ricostruzione della difesa fosse pertinente, comunque il presidente Campitelli avrebbe avuto dei minuti a disposizione per partecipare all'incontro pre-gara al casello di Albissola con lo consulente del Savona, Barghigiani. La prova della Combin, secondo la Corte, è racchiusa nelle conversazioni telefoniche raccolte dagli inquirenti di Catanzaro che non potevano che avere come argomento la realizzazione dell'illecito. La frequenza e il fermento di tali telefonate, specie nel giorno della partita, erano dovute alla necessità della reciproca conferma degli impegni assunti e il perfezionamento degli accordi intercorsi. C'è l'espressione di Nicola Di Giuseppe, il tuo capo non deve parlare di niente. Per la Corte il capo non può che essere il presidente Campitelli, che sempre, secondo i giudici, non solo partecipa, ma mette a disposizione le somme necessarie per finanziare la Combin. Fa peraltro specie come la Corte citi articoli di giornale che parlano di un furto denunciato dello stesso Campitelli e avvenuto nella sua azienda la notte successiva alla gara, proprio per la somma, si legge, di circa 70.000 euro corrispondente al prezzo della Combin. Del resto non può che prendere atto questa Corte del fatto che sul punto le difese non abbiano speso una sola parola. Le risultanze intercettive sono state corroborate poi dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da Marco Barghigiani davanti ai magistrati di Cananzaro, il quale ha confermato di aver incontrato il 2 maggio prima e dopo la partita Campitelli. La Corte accoglie l'assunto del Tribunale, secondo cui la partecipazione del patron bianco-rosso fu determinata più da un'opera di convincimento del DS Di Giuseppe che da una sua vera e propria disponibilità. Così si spiega la riduzione dell'inibizione apportata in secondo grado da 4 a 3 anni, mentre è stata confermata l'entità della sanzione per Di Giuseppe 4 anni di inibizione più 100.000 euro di ammenda. La differenza principale tra primo e secondo grado è la categoria data al Teramo, Serie D in primo grado, Lega Pro è da meno 6 in appello. La Corte ha ritenuto la sanzione di primo grado eccessivamente punitiva ed esageratamente afflittiva poiché avrebbe comportato di fatto la perdita di due categorie, tenuto conto che l'illecito è circoscritto ad una sola gara e il Teramo aveva un vantaggio di 4 punti a due giornate della fine, quindi con possibilità di vittoria del torneo molto concrete. Da qui l'applicazione dell'articolo 18 con la perdita del titolo sportivo della B, ma senza arrivare alla retrocessione all'ultimo posto dello scorso campionato. Il presidente Campitelli ha comunque confermato la volontà di ricorrere al CONI e commenta così la sentenza. Ce l'aspettavamo, ma pensavo che fossero delle motivazioni logiche. Sono motivazioni, credo, completamente politiche, sono motivazioni che forse hanno scritto dei giornalisti. Non riesco neppure a vedere più una partita di Serie B perché mi sento veramente mancare. dà molto fastidio, ma chiudiamo quella porta, lo terzo in conferenza.